mister stellone un esordio sfortunato l'arezzo trovato il vantaggio ma poi la partita si è ammalata come si dice sì peccato dispiace perché i ragazzi hanno fatto un'ottima gara sotto tanti tanti aspetti insomma siamo stati sfortunati nell'occasione del gol loro del pareggio siamo partiti bene con attenzione con concentrazione ho visto grande spirito di gruppo di squadra è venuto il pareggio in un'azione un po fortunato da parte degli avversari dove l'attaccante loro è stato bravo nel guizzo ma non abbiamo commesso commesso errori c'è stato il gol c'è stato il rigore assegnato un'espulsione ha cambiato un po i piani la strategia nel secondo tempo anche in dieci siamo partiti bene abbiamo pareggiato subito e poi c'è stato gli errori che secondo me hanno rovinato la partita dell'arbitro dove ha non ha concesso rigore per noi clamoroso su cherubin e addirittura dopo ha fischiato un rigore inesistente con espulsione su cherubin e per il gol loro del tra due quindi in nove poi diventava difficile ma comunque ci abbiamo provato non abbiamo preso un altro gol ma ci abbiamo provato quindi complimenti veramente ai ragazzi e lavoriamo perché siamo sulla strada giusta impressione proprio che la squadra abbia cambiato forse mentalità se sia un po incattivita in ogni caso la squadra non ha reagito in tutte le situazioni anche in nove appunto continuavano a cercare di trovare la strada per andare a cercare un pareggio che era quanto mai improbabile a quel punto se si sono d'accordo questo è l'aspetto molto molto importante che mi è piaciuto di più nella partita di oggi